recuperato da un cassone c'è questo alimentatore che penso sia del blackberry come caratteristiche abbiamo 5 volt 700 miliampere di uscita hanno tagliato il filo ma penso che finisce con un micro usb come connettore cerchiamo di recuperarlo per vedere se si può riutilizzare come prima operazione con un cutter e un seghetto si apre la carcassa ecco qua il contenuto dell'oggetto circuito stampato appoggia su questa parte ecco vediamo i due pin metallici della 220 volt quindi che arrivano qua e sul circuito stampato ln appunto sono fase neutro l sarà line in inglese che l'equivalente della fase che vanno a toccare questi due contatti per il 220 da una prima analisi visiva non ci sono componenti clamorosamente bruciati o deteriorati per cui ho saldato due fili di modo che potrò applicare la 220 volta allo schedino e andare a fare delle misure per capire dove sta il problema questo convertitore a uno stadio di raddrizzamento a diodi fatto discreti quindi ci sono quattro diodi e un condensatore elettrolitico quindi come prima prova si potrebbe alimentare a 220 la parte di ingresso e andare a vedere se sull'elettrolitico troviamo la tensione continua raddrizzata del valore di circa 320 340 ohm a seconda del valore della tensione di ingresso di rete che stiamo dando teniamo tensione al circuito andiamo a verificare sui pin dell'elettrolitico ecco che abbiamo 341 volt quindi lo stadio di ingresso è correttamente funzionante per avere maggiori informazioni su questo circuito cerco in rete fiong che è la casa costruttrice e che effettivamente fa delle power supply con il modello psm04r però non si trovano ovviamente gli schemi allora cercherò di ricostruire lo schema osservando l'oggetto e facendo reverse engineering osservando il circuito vediamo che c'è un integrato cp 102 n che ha un power mosfet integrato e sostanzialmente crea la frequenza di switching per questo trasformatore inferrite cercando su internet si trova questo ncp 100 che sembrerebbe assomigliare ma non è lui in quanto al pin 1 vediamo che c'è attaccato vcc e inoltre questo a tutti gli otto pin collegati viceversa quello del caricatore non alpin 7 e alpin 1 a ground viceversa il tny 263 268 sembra corrispondere a questo integrato infatti sia come schema interno che come pin out corrisponde esattamente a l'integrato su questa parte il circuito c'è un ottio isolatore che è il feedback per il controllore del del mosfet se giro il circuito stampato vedo che c'è un diodo zener a proteggere l'aggiunzione lo zener è fra il pin 3 e il pin 4 del controller quindi a proteggere il segnale di enable perché il segnale di enable è il pin 4 e il source del mosfet il pin 3 se vado a verificare l'aggiunzione lo trovo in corto quindi questo zener è in corto circuito e blocca la generazione dell'alta frequenza questo è lo schema applicativo dell'integrato ho rimosso lo zener che c'era fra il pin 4 e 3 dell'integrato però rimane ancora il corto quindi o il corto è sull'opto transistor oppure è sull'enable dell'integrato ho disaldato l'integrato di switching quindi fra il drain che è questo e il source vediamo che è in corto quindi è rotto il power mosfet interno infatti anche qua che c'è il source quindi questo integrato di controllo risulta essersi messo in corto circuito integrato CP102P non si trova più per cui vado su questa componente equivalente che è un TNY268 il quale come potenza in uscita secondo il costruttore riesce a erogare fino a 16 watt ovviamente superiori a quelli del nostro alimentatore che essendo un 5 volt 700 miliampere è sotto i 5 watt questo integrato contiene al suo interno questo schema blocchi del datasheet tutti i circuiti per far lavorare l'interruttore di potenza che è un power power mosfet integrato che switch alla frequenza di circa 130 kHz a pvm costante poi abbiamo un controllo del jitter un controllo termico un auto restart il componente sono riuscito a trovarlo su farnell e quindi con una consegna in 24 ore arriva subito è arrivato in meno di 24 ore andiamo a vedere il componente ecco il chip di questo costruttore che si chiama power integrations ed è il TNY268PN ecco la shape dell'integrato andrò a mettere uno zoccolo e lo zoccolo dovrò togliere il pin 6 in quanto non è previsto a PCB quindi dovrò togliere la colonnina collegato l'alimentatore alla 230 andiamo a vedere l'uscita è ancora 0 quindi nonostante questa sostituzione non abbiamo ancora la tensione di uscita carico il condensatore elettrolitico ecco vado a misurare sull'auto isolatore il corto non c'è più quindi un guasto l'abbiamo trovato ecco ricostruito lo schema quindi qui abbiamo tensione la 314 volt qui andiamo a vedere se la tensione arriva anche su questo elettrolitico che poi quello a cui si attacca il primario del trasformatore di flyback con il suo circuito di controllo il condensatore si trova tra questi terminali 0 volt quindi non arriva tensione al condensatore quindi la tensione arriva su questo ma non su questo qui andiamo a verificare se questa resistenza che collega i due condensatori è integra e a misurarla no questa resistenza interrotta allora i colori sono marrone nero rosso e argento quindi un kilo ohm mezzo watt in sostituzione della resistenza da un k ne metto due da 2,2 k in parallelo con i riofori piegati in questa maniera per poterli inserire nel circuito misuriamo la tensione sul condensatore il secondo ok ora c'è tensione sul condensatore vediamo l'uscita no l'uscita è ancora 0 quindi c'è probabilmente ancora un altro guasto osservando lo schema interno dell'integrato tny268 vediamo che c'è un pin di enable che va a comandare la logica di accensione del mosfet quindi una prova che si può fare è di alzare questo pin e anche questo che è il bypass e vedere se in uscita effettivamente il mosfet funziona e da tensione alzo il pin 1 che è il bypass e il pin 4 che è l'enable e posiziono le due sonde sul drain e sul source del mosfet per andare a vedere la forma d'onda diamo tensione dando tensione l'uscita si porta a 2 volte 3 ecco quindi l'integrato sembra funzionare però non bene perché questo integrato questo caricatore deve dare 5 volte osservando la tensione fra drain e source vediamo che c'è la continua sulla quale c'è sovrapposta la frequenza di switching del mosfet quindi il mosfet sta switchando in realtà non si accende completamente perché la tensione dovrebbe andare a zero se il mosfet riuscisse ad accendersi e la frequenza è di 300 kHz quindi non è quella nominale dei 130 kHz quindi c'è qualcosa nel controllo che non funziona ovviamente adesso siamo in una situazione in cui il pin enable e bypass sono flottanti per cui il mosfet si comporta in questa maniera quindi abbiamo visto che se alziamo questi due pin l'integrato lavora con il suo clock l'enable diciamo tiene abilitato quindi il problema è in questo bypass il datasheet descrive il pin di bypass dicendo connection point per un condensatore da 0,1 microfarad esterno per permettere la regolazione interna del 5,8 power supply infatti andando a guardare lo schema vediamo che questo regolatore interno 5,8 è connesso al drain quindi al drain del mosfet e bisognerebbe collegare questo pin tramite un condensatore alla alta tensione invece nel nostro schema il pin 1 è collegato a massa perché probabilmente l'integrato che montava originariamente l'alimentatore del blackberry non aveva questa funzione di bypass sul lato saldature si vede infatti che il pin 1 questo qui è collegato al piano di massa e quindi dovremmo fare una modifica per permettere a questo integrato equivalente di poter funzionare e regolare la 5 volt quindi per poter utilizzare questo integrato saldo direttamente sul pin un condensatore da 100 nanofarad sul pin 1 e poi l'altro estremo lo andrò a mettere nello zoccolo che è collegato a massa e quindi andrò a inserire 100 nanofarad fra il pin di bypass e la massa questo è utile all'integrato per funzionare poiché la sua alimentazione la preleva dal drain del mosfet e va a trasformarla a 5.8 volt che è la tensione dell'alimentazione questo condensatore di bypass esterno serve per accumulare questa carica quindi che gli permette di funzionare senza questo condensatore abbiamo visto infatti che non riesce a stabilizzare bene la tensione ecco il condensatore saldato direttamente sul pin 1 e montato facciamo la prova collegando la tensione perfetto, 5.15 volt quindi l'integrato sta regolando adesso siamo a vuoto, andiamo a vedere le forme d'onda osservando la tensione di uscita vediamo i 300 volt e queste commutazioni andiamo ad allargare la scala ecco, perfetto vediamo che qui il mosfet si accende per un periodo di circa 2 microsecondi e poi si spegne con una frequenza di commutazione regolare decisa dal circuito di controllo ora faccio la prova a carico inserendo una resistenza da 10 ohm e 5 watt per vedere se riusciamo effettivamente a erogare la corrente quindi con 5 volt 10 ohm eroghiamo 500 mA anche a carico la tensione risulta perfettamente regolata per cui l'integrato direi che ha risolto il problema se osserviamo la forma d'onda a carico ecco, vediamo che la frequenza di switching è aumentata e vediamo che oscilla fra 30 kHz e i famosi 130 kHz che ci venivano dati a datasheet quindi in questo caso vediamo che il mosfet sta commutando a frequenza superiore appunto per superire più corrente per essere sicuri di collegare il connettore micro usb con la polarità giusta col multimetro collego un filo e vado a vedere qual è la massa in questo caso andando a toccare il GND con la massa di questa scheda Arduino sono sicuro che questo filo qua è il meno della 5 volt ok collegato l'Arduino si accende il led per cui alimentiamo a 5 volt abbiamo quindi risuscitato questo alimentatore in conclusione quindi i guasti erano molto probabilmente è andato in tilt l'integrato che pilotava il mosfet per primo quindi quello con il mosfet andando in corto questo integrato si è probabilmente rotta la resistenza a quella serie la prima che abbiamo cambiato e questo ha portato al guasto dell'alimentatore in commercio non siamo riusciti a trovare esattamente lo stesso integrato di switching ma un equivalente che a differenza dell'originale ha un pin di bypass al quale è stato necessario dover collegare un condensatore da 100 nF per poter stabilizzare la tensione quindi con poco più di un euro di componenti abbiamo rimesso in pista un alimentatore che se lo si va a comprare originale costa almeno 20-25 euro 5V 700mA 5V 700mA 5V 500mA 6V 500MB 6V 500mB 7V 500mB 5V 500mB 6V 500mB